Io sono sinceramente d'accordo con quanto diceva anche il professor Flick perché c'è un programma di governo che è molto contraddittorio e tra l'altro, lo voglio dire senza ironia, è la prima volta che ho visto una cerimonia del Campanello non con un singolo rappresentante, il Presidente del Consiglio, ma scortato dai due Vice Premier e dal Sottosegretario della Presidenza del Consiglio. Non credo si sia neanche mai fisicamente vista una scena del genere, la foto di gruppo, insomma, devo dire che è stata una foto francamente strana dal punto di vista della grammatica, però a me quello che colpisce sono i silenzi più che le cose dette. Per esempio? Perché Conte non ha avuto il tempo né lui, né il Ministro Maroni, né il Ministro Salvini, né Di Maio, hanno avuto la voglia di dire una parola sul fatto che è stato fucilato un ragazzo che faceva il sindacalismo a difesa dei più sfruttati, degli ultimi, in Calabria. Un silenzio che pesa per me come un macigno, che pesa come un programma, perché se da una parte tu attacchi una persona per bene che sta facendo integrazione come Mimmo Lucano, che è il sindaco di Riace, e dall'altra stai zitto su quella che può essere una fucilata dell'Andrangheta, anche sul fatto che può essere il primo programma del governo quello della sicurezza, io penso che stai fallendo. Così come se tu hai bisogno di una collaborazione la devi stabilire con quelli che dall'altra parte già stanno collaborando con te. Se la prima cosa che fai, litighi con la Tunisia, che è stato il paese che ha avuto più riammissioni, nel quale, come poi precipitosamente ha cercato di correggersi, è stato il paese, lo stesso Salvini, è stato il paese che ha accolto più rimpatriati. Se tu litighi con quelli e cerchi appoggio da Orban, cioè quello che ci ha ostacolato in tutti i momenti. Allora, Salvini deve sapere una cosa... Per esempio è una contraddizione in questo. La contraddizione voglio dire un eufemismo, secondo me è una cosa assurda, siccome noi non possiamo essere al carro e al traino di un piccolo paese come l'Ungheria, che ha modificato la sua Costituzione in senso illiberale, ha gasato i migranti, ha chiuso le frontiere, ha ostacolato ogni progetto di condivisione del progetto europeo della gestione di migranti, e quindi è nemico dell'Italia da questo punto di vista. Io penso che l'idea che si possa andare contro la Tunisia, che ci ha, diciamo così, dato una collaborazione forte, e al carro di Orban, significhi che questo ministro dell'interno probabilmente non ha le idee chiare rispetto a che cosa deve succedere. Poi, gli voglio dire, benvenuto al governo. La prima cosa che farà, siccome lui diceva, vi chiudono sempre le porte in faccia, lui non se la fa manco aprire. Già ha detto che l'Europa non è in grado di sostenere quelle che sono le proposte italiane. Allora, io penso che c'è molta ipocrisia, perché Salvini ha detto che Minniti ha fatto un buon lavoro, l'avesse detto anche in campagna elettorale, sarebbe stata almeno una campagna elettorale un po' più onesta, ma il problema è la disonestà intellettuale che è stata portata al massimo livello da chi poi immediatamente ha un silenzio per un bracciante ammazzato, una parola buona per un nemico dell'Italia e un litigio con un paese che ha fatto della riammissione e dei rimpatri un privilegio anche della sua iniziativa politica. Allora, io penso che questo sia un tempo ben strano. Allora, tengo ancora Silente per un attimo Morelli...